Ultimi preparativi all'interno della cattedrale di Rabat. Papa Francesco ha scelto il Marocco per portare il suo braccio alla comunità cattolica. Meno dell'1% su una popolazione di circa 37 milioni di abitanti, due solerci diocesi e altrettanti pastori diocesani di Tangere e Rabat. Quest'ultima è più grande dell'Italia intera. È domenica nella chiesa di San Pio X. Mi chiamo Hervé Emmanuel e sono uno studente camerunense. Divo a Rabat. È appena finita la celebrazione eucaristica e fra noi ci sono molti giovani che stanno preparando l'arrivo del Santo Padre. Lo attendiamo con ansia. C'è attesa per il viaggio di Papa Francesco a quasi 34 anni dalla visita di San Giovanni Paolo II che ha lasciato in eredità uno statuto giuridico, un modello normato di convivenza possibile e dialogo. Il rispetto della libertà religiosa, qui è presente anche una comunità ebraica, risulta sancito anche dalla riforma costituzionale del 2011. Le conversioni al cattolicesimo non sono vietate, ma di fatto accettate con difficoltà dalla comunità.